Domenico Qualcuno saprà dirci qualcosa Ehi, Sermi, come va? Grazie, Jonathan Ma ti rendi conto? L'abbiamo beccato che beveva le offrendas Oh mamma, anche io da bambina erodiscola come me Non c'è bisogno di più Ci pensierà alla diquila Ne ha piusuta un bel po' Guarda, è per mio padre Forse potrei accenderne uno per mia madre Non sono abituata a tutta questa gente Egli o gli immortali o gli implacati? No, va bene così Jonah, è al cancello Lo vedo Dattola alle rovine Da lì non si dovrebbe sentire nulla No, no, ti prego Non complicare inutilmente le cose È solo colpa tua Allora, vuoi muoverti? Vogliono che rientriamo al più presto Ultime parole Un momento Sono un ufficiale governativo Devo esserci anch'io Mi spiace Caro il mio capo archeologo Ma il tuo contratto è terminato No, vi prego Posso pagarvi Ho i soldi Non mi resta che scegliere Non mi resta che scegliere Tu? Sì, comandante Rourke Fuori al sito sicuro ora Quando arriva il dottor Domingo, seguiamo tutti insieme. Preparatevi tutti. Il dottor Domingo sta scendendo. Capo, devo sbrigarmi. La statua guarda verso la grotta. Eccola. Giovanni, entro in una grotta. Potrei perdere il segnale. La legge muta. Terro d'occhio la tre di data fuori. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. Noi, non sono. Buscami qua tollo l'inter-2o sul cazzo si sono innanzit depende del материale. I ragazzi siamo blocchi liberi crescendo L'incisione su questo monolite maia è troppo rovinata per leggerla. Dovevo aspettare. Che posto è questo? Alla prossima. 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 Si, mia. c'è del fuoco deve esserci qualcuno ehi Jonas Miguel mi sentite? dove siete? oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Se c'è qualcosa, lo scopriremo Quando ha fatto l'ultima revisione? È pieno di luce Ma ora non ti distrattere, Mendes? Che cosa stiamo cercando? Qualunque cosa, che si muova o meno Non hanno ancora trovato la reliquia? Vorrei tanto essere chi la rinviene Non credo E perché? Sarebbe un errore O più probabilmente morto No, grazie Preferisco rimanere qui di guardia Meno chiacchiere e occhi aperti Muotete il culo Signore No, grazie a tutti Cosa dovrei farsene di questo pesce? Cosa dovrebbe farsene di quei pesci? È marzo È marzo Non lo darei neanche al piano Neanche al piano Non so come possano stare lì a ciarlare con tutto quello che è successo Mi dispiace Ehi Ho un po' di merce per te, se ti interessa Ehi, salve Niente che ti piace? Prego Prego Un buon affare per entrambi Un buon affare per entrambi Mi dispiace Ehi, salve Mi dispiace Il buon affare per entrambi Ehi, salve A di più Il buon affare per entrambi Ehi, salve La cosa dovrebbe Ehi, salve Per entrambi Un buon affare per entrambi Ehi, salve Cosa dovrebbe O più Torna presto! Jonah, ho trovato delle rovine Inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo. Ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Arrivo subito, Lara.